Bisogna pure segnare se vuoi o vincere o andare a supplementare, devi fare due cose in questi 13 secondi e mezzo La rimessa verso Portannese che va a realizzare parità a 11 secondi alla fine col canestro di Portannese Adesso bisogna recuperare la palla Eh sì, bisogna difendere alla morte, 6 secondi, 5, 4 Viene lasciato solo a tirare Ume a 4 secondi dal termine Stupidaggine della difesa di Capodorlando E la porta via Trento con questo canestro sulla sirena di Ume Brutta scelta difensiva dell'Orlandina che ha lasciato passare il play avversario